Il 22 settembre del 1968 fu un giorno di festa, perché era la festa dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Siamo qui proprio perché questo è un luogo significativo dove Padre Pio spesso stava qui in preghiera e aveva l'opportunità non solo di recitare il Santo Rosario, ma dare uno sguardo anche a tutti i fedeli che arrivavano e che sapevano già che lui era qui, era qui e aspettava tutti loro, come quella mattina. Quella mattina del 22 settembre, come di consueto Padre Pio celebra l'Eucarestia al solito orario, alle 5 del mattino. Appena aperte le porte della chiesa, subito una folla invade letteralmente la chiesa, non c'era un posto libero. Era il giorno dedicato ai gruppi di preghiera, c'era il convegno internazionale dei gruppi di preghiera, per parlare un po' di numeri erano già stati creati 726 gruppi, 68 mila iscritti di diverse nazionalità. Era un giorno di festa per lo stesso Padre Pio che accoglieva tutti i suoi figli spirituali. Durante l'Eucarestia delle immagini ci ricordano proprio quell'ultima messa di Padre Pio da Pietrelcina e di un fatto particolare, proprio al termine dell'Eucarestia, quasi stremato di forze, una volta che si alzò dalla poltroncina per terminare la Santa Messa, Padre Pio ha un mancamento, stava quasi per cadere ma riuscì un suo confratello, Padre Giuseppe Pio, Fra Giuseppe Pio, Padre Bill, così come veniva chiamato affettuosamente da tutti i confratelli e dallo stesso Padre Pio lo riuscì a sorreggere e poi portare in Sacrestia. Fu un momento drammatico per tutti anche perché era pallido in viso e soprattutto con la mano salutava i suoi figli spirituali e continuamente ripeteva figli miei, figli miei. Padre Pio viene portato in Sacrestia. Alle otto confessa gli uomini, intorno alle dieci e trenta Padre Pio vuole affacciarsi alla finestra del coro per salutare i gruppi di preghiera che erano radunati per il loro consueto incontro. Questo saluto era previsto intorno a mezzogiorno ma all'improvviso Padre Pio si affaccia alla finestra del coro e saluta a tutti, benedice tutti. Lo fa all'improvviso. Poi verso le 18 nel pomeriggio Padre Pio si porta in questo luogo per partecipare alla celebrazione eucaristica. Fu possiamo dire l'ultima volta che venne qui per salutare da questo luogo i suoi figli spirituali. Raccontano i confratelli che in quella serata fissava a lungo la gente. Terminata la messa per qualche minuto è stato con la testa curva come accadeva spesso ma in quella giornata qualche minuto in più senza potersi poi alzare ma venne poi riaccompagnato nella sua cella. Attraversò la sala San Francesco e lì altra benedizione a degli uomini che erano presenti in quel luogo entrò nella sua cella e per l'ultima volta possiamo dire proprio così il 22 settembre del 1968 era domenica. Saluto i suoi figli spirituali che erano di fronte alla sua finestra che aspettavano questo momento. Buonanotte padre, padre vi vogliamo bene. Fu l'ultima potremmo dire apparizione ecco dalla sua finestra, dalla sua cella di padre Pio, un uomo che in tanti hanno conosciuto e hanno continuato a chiamarlo col nome di padre. l'ultima potremmo direometry. Grazie a tutti.